Una prigione che si presenta come un incrocio tra il circo della luna spenta di Sailor Moon e un luna park creepy. No, non abbiamo le traveggole perché il carcere di Deadman Wonderland che dà il titolo all'opera è proprio così. D'altronde siamo in un anime e se negli anime dei ragazzini minorenni possono pilotare dei robotoni senza aver mai manco letto un libretto di istruzioni, tutto è possibile. Ganta è un ragazzino con una joie de vivre incontrollabile che trascorre le sue giornate senza particolari emozioni, non conservando alcun ricordo di essere stato uno dei pochi sopravvissuti ad un devastante terremoto dieci anni prima. Tutto cambia quando un misterioso uomo volante con un maltello a brandelli uccide tutti i suoi compagni di classe e li pianta un cristallo rosso nel petto. Così senza manco un saluto, due tre ore di spiegazione, niente, a freddo proprio. Il poverino in quanto unico sopravvissuto è considerato dagli abilissimi detective della città è l'unico sospettato. E a seguito di un processo più veloce di Barry Allen, quando deve correre in bagno col cagotto, il poverino viene condannato a morte e spedito nel carcere di Deadman Wonderland. Un carcere di massima sicurezza che ha altresì la funzione di Luna Park. Certo, perché chi non vorrebbe andare a divertirsi tra detenuti assassini? Chi? Disneyland schifo proprio. Qui il protagonista fa la conoscenza di Shiro, una ragazzina albina che indossa sempre una pratica tutina aderentissima e dei guanti a metà tra quelli da forno e quelli da pugilato. Guanti da fornato? Ella sembra conoscerlo ma purtroppo di lei il ragazzo non si ricorda per una cippa. Come se non fosse già abbastanza una schifezza essere in prigione, tutti i detenuti devono indossare un collare dotato di GPS che ha una doppia funzione. Far mantenere loro la postura giusta mentre sono a tavola e avvelenarli. Ebbene sì, sto collarone rilasciano i loro organismi sostanze tossiche e per non schiattare devono mangiare particolari caramelle antidoto. Peccato che queste non costino poco e per permettersele bisogna guadagnare quelli che vengono chiamati cast points, dei punti che vengono dati in premio a giochi estremamente cruenti. Ricapitoliamo, prigione Luna Park con l'aria avvelenati e scontri mortali. Al povero Ganta quella fatidica mattina conveniva proprio non alzarsi dal letto. Presto il protagonista scopre che a seguito dell'incontro col misterioso e assassinoso uomo in rosso ha acquisito delle particolari abilità che gli permettono di manipolare il sangue. E proprio a causa di questa sua abilità egli viene ghettizzato nel blocco G della prigione assieme ad altri con abilità particolari diciamo. E costretto a partecipare al Carnival Corps, una specie di spettacolo mena a tutti a cui assiste l'equivalente di spettatori di una partita amichevole di Olly e Benji. Ovvero una folla da stadio. Ad un certo punto Ganta riesce a recuperare un chip contenente tutti i segreti più fetidi della prigione per smascherarli in prima serata dopo a striscia la notizia. E sta per fuggire dalla prigione ma ecco che Shiro acchiappa il suddetto chip e lo lancia in una stanza forno. Poiché si trattava di una trappola esplosiva fornita da una talpa. Veniamo a sapere che Shiro e Ganta erano amici di infanzia e a seguito di alcuni esperimenti la ragazzina sviluppa una doppia personalità. E una di esse è proprio il temibile uomo in rosso responsabile dell'omicidio di tutta la classe di Ganta. Ha fisionomia uguale proprio. Uguale. Per fortuna il super computer della prigione trasmette a Loop una nina nanna udibile solo da Shiro che blocca questa sua personalità devasto assassina. Ma appena il pc si riavvia o Windows parte coi suoi aggiornamenti non richiesti la musica si interrompe e la personalità demoniaca assassina della ragazza viene a galla. E per sembrare più grossa e cattiva indossa un mantello rosso celando la sua identità persino a Shiro a cui aveva sterminato tutti i compagni di classe in modo che egli fosse spedito al Deadman Wonderland. Ma evadere lei no? Vabbè si sentiva sola o eh non giudicate. Dopo svariati casini il povero Nagy detto The Crow il leader dei Deadman ribelli che vogliono la libertà viene il lavaggio cervellato per combattere contro i suoi stessi amici ed infine è ucciso. Solo grazie ad un buco formatosi nel soffitto della prigione seguito dello scontro molti detenuti riescono ad evadere. Ma a Ganta no lui decide di rimanere in quel luogo per aiutare le persone che li ha conosciuto. E a battaglia conclusa sente Shiro cantare la stessa canzoncina che aveva udito dall'uomo in rosso. Ed il giovane si domanda come lei possa conoscerla. Fine! No dai manca un episodio o due. No! Fine! Finisce così? Sì! Finisce così. Ma che avevano fretta? Non ci hanno spiegato praticamente niente. No ma belli questi finali non finali. Prima o poi diventeranno illegali no? No? Signore e signori benvenuti al Living Cat Wonderland. Qui potrete assistere a feroci incontri di gatti contro delle sedie. Insomma non sono certo spettacoli che si vedono tutti i giorni. Passate una buona giornata e Disneyland dimenticatevelo proprio eh. Grazie a tutti.